Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una pinzetta inversa ottima per posizionare piccoli particolari in modellismo e per gli hobby creativi. Normalmente una pinzetta quando chiudo, quando afferro un oggetto devo tenere premuto per fare in modo che l'oggetto resti bloccato. Invece questa pinzetta inversa permette di prendere un oggetto e poi resta bloccato. L'oggetto verrà rilasciato quando premeremo nuovamente. Vedete? L'oggetto è fisso. Possiamo anche lasciare la pinzetta, posare la pinzetta e l'oggetto resta fisso. Quando premo nuovamente viene rilasciato. è una pinzetta molto precisa per lavori di precisione. buona visione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie. 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 Grazie.